Nella splendida cornice di Villa Medici, l'artista contemporaneo Berglan, Lavier, espurre una selezione antologica delle sue opere partendo dalla fine degli anni 70, all'installazione creata per la facciata interna del giardino. Voluto dal direttore Frédéric Mitterrand, curata da Giorgio Versotti, è un bel catalogo bilingue edito da Beruzzi Stampa. Egli è un artista molto noto in Francia, avendo sempre avuto mostre personali e partecipato a Biennale internazionali, tra le quali quella di Venezia del 76 e una retrospettiva al Saint-Propé-Doux del 2002. L'Italia ha esposto numerose volte le sue opere al Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli. È l'artista che nei primi anni 70 ha iniziato a indagare il rapporto tra arte e quotidianità, fino a voler esporre oggetti abitualmente usati, modificandoli fino a cambiare la funzione, pur mantonendo le caratteristiche di base. Comprendoli con lo spesso strato di vernice acridica, ne ha mantenuto il colore originale, come le pianoforte Stanway & Song che ha donato al Museo di Rivoli. Grazie a tutti!